Piccoli tribunali a rischio chiusura non è una novità ma solo un rinvio che trova origine nella disposizione ai tempi del governo Monti. Da lì in poi un rinvio a causa terremoto e successivamente quello previsto dal decreto mille proroghe del 2014. La scadenza attuale è quella di settembre 2018 e in ballo ora c'è la sorte dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Una preoccupazione per i diversi territori abruzzesi che vedrebbero un isolamento in termini di distanze ed anche funzionalità spicciola. Oggi un vertice alla regione ha messo nello stesso tavolo tutti i rappresentanti dei diversi soggetti in questione per pianificare una strategia comune. Noi chiediamo al governo di rivedere la geografia giudiziaria e di riampliare semmai gli ambiti giudiziari, potenziare invece queste strutture che loro definiscono di minore entità, potenziarle e questo si può fare per far sì che i servizi ai cittadini vengano mantenuti. Una proroga che per me sindaco di Vasto dovrà diventare anche un momento per chiedere la definitiva stabilizzazione di questo servizio di giustizia, ovvero il mantenimento del tribunale di Vasto in quanto è un tribunale importante per il sud dell'Abruzzo e un tribunale che rappresenta momento di confine con altre regioni. Io ricordo per chiarezza che nel 2012 il Parlamento ha deciso di chiudere quattro tribunali abruzzesi, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Questa chiusura è stata sospesa a causa del terremoto e la sospensione cessa a settembre 2018. Ora, perché il Parlamento possa tornare indietro rispetto a una decisione che ha già assunto, è necessario che la comunità abruzzese politica si metta d'accordo. Io ritengo molto difficile che si possano salvare tutti e quattro i tribunali soppressi, perché, come ha detto il Ministro Orlando quando è stato qui, abbiamo chiuso uffici in tutta Italia e la riforma ha funzionato.